Smart Working, organizzazione in vista dell'estensione dal 15 ottobre del Green Pass e nodo assunzioni, sono le principali questioni emerse durante l'assemblea tra sindacati e dipendenti del Comune di Pesaro intercorsa qualche giorno fa, tematiche sulle quali si è concentrata la replica dell'assessore con delega al personale Mila Della Dora, che alle carenze di organico sottolineate dai sindacati ha evidenziato l'assunzione di sette persone dall'inizio del 2021 e un programma di azioni formative destinate proprio ai dipendenti. Appena sono uscite le disposizioni nazionali sul PNRR il Comune ha deciso di spingere le assunzioni su quei settori come il SUAP, le opere pubbliche, l'edilizia privata, quei settori che hanno visto dei finanziamenti nazionali importanti per quel che riguarda pensiamo il 110, i bonus e quindi volevamo essere in grado di dare delle risposte efficienti e immediate a quei cittadini che avevano e quelle imprese che avevano la voglia e la forza di intercettare diciamo quegli incentivi. Adesso a ottobre arriveranno quattro persone all'urbanistica e tre ne sono arrivate a inizio 2021. Ricordo anche quella che era stata la critica da parte dei geometri, diciamo che abbiamo dato una risposta ma era in programma, era impensabile assumere nel periodo dello smart working. Appena ci sono state le condizioni noi abbiamo assunte, le persone sono praticamente quasi tutte in presenza. Tra l'altro dai primi di ottobre per nove mesi ci sarà la possibilità di fare formazione a tutti i dipendenti, dirigenti e PO per razionalizzare, migliorare, efficientare quella che è la propria qualità del lavoro. Noi puntiamo anche su questo. Sul tema dell'estensione della certificazione verde, l'assessore ha confermato la bocciatura in merito alla richiesta dei tamponi gratuiti da riservare ai dipendenti dell'ente pubblico. Le prime ipotesi per l'applicazione delle indicazioni relative al green pass obbligatorio e la nuova programmazione delle assunzioni saranno al centro della riunione tra sindacati e comune prevista per il prossimo 5 ottobre. Sono diversi gli aspetti che verranno affrontati da quella diciamo del piano dei fabbisogni 2022. Una chiacchierata che era già stata iniziata prima delle ferie di agosto con i sindacati diciamo avevamo ribadito il concetto che nel 2021 avevamo dato priorità a certi servizi appunto come ho detto urbanistica, opere pubbliche, SUAP e che per il 2022 diciamo ci sarebbero state altre assunzioni su altri servizi condividendo con loro sempre le priorità. e poi un altro tema sarà quello appunto del green pass, dell'obbligo del green pass in attesa di ricevere delle disposizioni nazionali diciamo sull'applicazione del green pass l'amministrazione comunale si è sempre fatta trovare pronta a dare delle risposte quindi anche in questo caso saremo in grado già da subito ad attuare quelle che sono le disposizioni nazionali.